Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione è diventata irrevocabile la condanna per sette esponenti della criminalità organizzata barese. Per tutti loro sono scattate le manette questa mattina da parte della Polizia di Stato che ha dato esecuzione ai sette provvedimenti restrittivi in carcere. Le condanne definitive nascono dall'operazione di Polizia Doppio Gioco avviata in seguito al tentativo di omicidio di un noto esponente della criminalità organizzata del capoluogo avvenuto nel quartiere Libertà di Bari il 22 agosto 2012. In particolare le sette persone sono state ritenute responsabili a vario titolo di tentato omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni della legge sulle armi e distorsioni con l'aggravante della mafiosità. Dovranno scontare pene dai due anni e sei mesi di reclusione ai 16 anni di carcere Francesco Cascella, Michele Catalano, Alessandro De Bernardis, attualmente collaboratore di giustizia, Gennaro Fiengo, Giuliano, Frisari, Vito Giordano e Riccardo Lucchesi, tutti ritenuti appartenenti al clan mercante e disarticolato nell'aprile del 2018 grazie proprio a questa inchiesta Doppio Gioco. Un'indagine avviata dopo il tentato omicidio, come detto, dell'allora 66enne Giuseppe Mercante, ferito in via Nicolai il 22 agosto 2012 e che riuscì a salvarsi solo grazie all'inceppamento dell'arma del sicario. Con l'esecuzione del provvedimento odierno è stato disposto anche il decreto di sospensione del cumulo delle pene nei confronti di altre 12 persone coinvolti nella stessa attività d'indagine.